L'unedì 15 luglio riapriranno le terme di Caramanico, non la reserve per la quale ci vorrà ancora del tempo, ma intanto, scongiurata la chiusura dello storico impianto alle falde della Maiella, l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo, Mauro Febo, si dice soddisfatto per aver salvaguardato i posti di lavoro a rischio e annuncia due possibili strategie per rilanciare l'impianto termale nel giro di un anno. Abbiamo evitato il peggio, cioè che le terme chiudessero, perché la società ha una situazione deficitaria molto pesante, oltre 21 milioni di euro, è in liquidazione volontaria, quindi è iniziata una procedura concorsuale che permette di riaprire. Questo ci dà la possibilità di salvare la stagione, che è il primo obiettivo, sia da un punto di vista occupazionale, diretto, sia da un punto di vista di economia di quel territorio, sia da un punto di vista di immagine. Adesso abbiamo due strade da seguire, una che riguarda l'ampliamento della Convenzione per la fornitura di prestazioni termalistiche, su cui sta lavorando la collega Verì, e ha già presentato un progetto messo su dall'Agenzia Sanitaria Regionale e da Federterme, chiaramente un progetto che partirà per il 2020 perché ha bisogno delle autorizzazioni ministeriali, mentre noi stiamo lavorando su un progetto turistico importante, d'altronde quello è un bacino che si affaccia a Passo Lanciano, quindi può fruire sia del periodo estivo ma anche del periodo invernale, per farlo rientrare in quel progetto ancora più ambizioso che è il piano triennale strategico del turismo, perché è chiaro che dobbiamo cercare di ampliare l'offerta termalistica per l'Abruzzo, e Caramanico credo che sia l'emplema dell'Abruzzo a questo livello, e quindi dare la possibilità a questa società di poter proseguire. Dopo la riapertura di lunedì, giovedì 18 luglio alle 15.30 si insedierà un nuovo tavolo di lavoro che coinvolgerà il sindaco di Caramanico, la regione e la proprietà, con Franco Masci, amministratore unico e liquidatore delle terme e sindacati.